Isernia, la provincia più noiosa d'Italia, a cui da noi non si sa cosa fare, non c'è lavoro, i giovani scappano tutti via. Già lo sapevamo, ma ora è ufficiale, a dirlo il Sole 24 Ore, che ha posto per la prima volta a confronto i fattori che determinano l'attrattività e la potenzialità di svago nelle province italiane. Nella graduatoria generale la provincia pentra è penultima in Italia, solo Enna, ultima, sta dietro di noi. Poco diversa la situazione a Campobasso, in 81esima posizione su 100 province. Nord e Centro dominano la classifica del divertimento e nessuna meraviglia nel apprendere che rimini ad aggiudicarsi la sfida nazionale, precedendo due città d'arte come Firenze e Venezia. La pagella finale si basa sulla media dei punteggi, nei vari indicatori presi a riferimento dal quotidiano della Confindustria. Parliamo di spesa in spettacoli, presenza di ristoranti, bar, librerie, piscine, numero di turisti, permanenza media nelle strutture ricettive, agriturismo, cinema, teatri, concerti e sport. Insomma il Molise esiste ma è noioso e i numeri dicono che la gente fugge via e la nostra regione sta morendo di spopolamento. In un anno sono stati persi 3.000 residenti, siamo la regione d'Italia che cresce meno. L'Istat prima del sole 24 ore aveva già reso noto il bilancio demografico del 2018. brutte notizie per la nostra regione che ha il tasso di crescita totale più basso di tutta Italia, meno 9,4 per mille. Nel corso dell'anno passato il Molise ha perso quasi 2.900 residenti. I dati ci condannano, in 20 anni il Molise perderà oltre 30.000 abitanti. Il tasso di natalità nella nostra regione è del 6,2 per mille e fanno peggio di noi solo Liguria e Sardegna. All'opposto il tasso di mortalità è del 12,1 per cento, oltre due punti percentuali in più rispetto al sud. Non un bel quadro per una regione che rischia davvero di scomparire. Il Molise che al primo gennaio 2018 aveva 308.493 residenti, al 31 dicembre ne aveva 305.617, ovvero 2.876 meno più di 2.000 nella provincia di Campobasso e circa 860 in quella di Isernia.